Benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Danny T, o cinghiale di ferro su Dauntless, e oggi vi porto una piccola guida per quanto riguarda la nuova ascesa radiante. Ma prima, come sempre, vi ricordo di lasciare un like, un commento sotto questo video e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità di Dauntless. Ma ora, lanciamoci sul video! A più di un anno di distanza dall'ultima ascesa a quella glaciale, abbiamo ora finalmente quella radiante, con meccaniche uniche che troveremo all'interno di ogni singola arena. Ma ora andiamole a scoprire nel dettaglio. La prima cosa che ci viene detta è che all'interno di ogni singola arena ci sarà un determinato indizio che dovremmo trovare. Questi quattro indizi non sono altro che quattro simboli, che saranno sempre casuali ogni volta che avvieremo un'ascesa radiante, ma saranno sempre nello stesso punto. Il primo indizio, nella prima arena, si troverà esattamente poco prima del geyser per accedere alla seconda arena, sulla vostra destra, su una parete rocciosa. Il secondo indizio si troverà alla fine di questo corridoio, in alto sulla sinistra. Eccolo lì, questa C con all'interno un piccolo puntino. In più, da subito dalla seconda arena avremo qualcosa di particolare. Dal terreno emergeranno queste strutture che creano una trappola di luce. Quindi state attenti, Slayers! Ed eccoci arrivati anche alla terza arena, dove qui, come da trailer, avremo quegli strani cannoni di luce. Quest'ultimi avranno munizioni infinite, anche se tra un colpo e l'altro dovremmo aspettare un paio di secondi. Un'altra parte importante di questi cannoni è che non potranno essere direzionati, quindi il Beemoth dovrà essere in linea con il raggio. Inoltre, il raggio farà danno per ogni volta che colpirà il Beemoth e sarà anche in grado di stordirlo, qualora si presentasse l'occasione. Per quanto riguarda invece l'indizio segreto, si troverà esattamente subito dietro il cristallo che ci fornisce un AMP. Ed eccoci arrivati all'ultima arena, la quarta. Non appena saremo arrivati all'ingresso, scendiamo da questo costone di roccia e dirigiamoci sulla nostra sinistra, per trovare finalmente l'ultimo indizio. Anche quest'ultima arena ha qualcosa di particolare. Oltre a ritrovare nuovamente i cannoni di luce, potremmo trovare questo elemento di condizione di arena, cioè all'interno sarà presente questo piccolo pilastro con una croce. Finché quest'ultimo sarà integro, avremo un malus alle nostre cure. Ma qualora i Beemoth dovessero arrivare ad avere un quarto di vita e il pilone è stato distrutto, ebbene le creature all'interno di quest'ultima arena saranno immuni al danno. Quindi sì, trovare questo modificatore d'arena in un'ascesa radiante eroica sarà davvero un incubo completarla. Una volta abbattuti tutti i Beemoth e scoperti tutti gli indizi, arriveremo in questa sezione della mappa, in cui troveremo quattro piloni. Al di sopra di ognuno potremmo trovare un numero, che appunto sarà l'equivalente di ogni indizio trovato in ogni singola arena. Una volta inseriti tutti e quattro gli indizi, al centro della mappa comparirà un cristallo, che ci fornirà un ulteriore AMP. Ma ancora non è arrivato il momento di andare via, perché se saltiamo da questo costone di roccia e passiamo la cascata di sabbia, troveremo un pezzo di storia che ci servirà per la nostra collezione. Ed eccoci giunti all'ultimo scontro, il boss dell'arena, cioè il cronovoro. Su questo Beemoth già è stato detto tutto, e vi rimando a guardare il mio video sulla guida per come affrontarlo al meglio. Per le mie considerazioni finali riguardante l'ascesa radiante, devo dire di essere davvero soddisfatto. Su molti punti, tra l'altro. Prima di tutto, parliamo di questi piccoli eventi presenti all'interno della seconda, terza e quarta arena. Un elemento invece che avrei preferito cambiare un po' sono i cannoni. Il fatto che non si possa ammirare che siano fermi in quella linea di fuoco li rende piuttosto limitati. E quindi sì, colpire il Beemoth con quel raggio è più una questione di vera fortuna. Per quanto riguarda l'effetto di status, quando si tocca la bava luminescente, o radiante, devo dire che questo nuovo effetto è davvero molto simpatico. Per quanto riguarda invece gli indizi da trovare, avrei preferito che, oltre ad essere randomici, potessero trovarsi nell'arena, o meglio all'interno di ogni arena, in alcuni definiti spot, e non sempre gli stessi. Cosa mi resta da aggiungere quindi? Beh, sono curioso di leggere i vostri commenti a riguardo. Di cosa ne pensate di questa nuova ascesa radiante? Se è stata di vostro gradimento, oppure no? Infine, come sempre, vi ricordo che il mio prossimo video uscirà di martedì, alle ore 4, e ci vediamo anche in Game Slayer. Quindi, alla prossima! Se sei arrivato a questo punto, ebbene ti meriti un piccolo bonus. Vai sul sito di Dauntless e sulla sezione riscatta codice scrivi Lantern Code 0 6 e riscatta. Subito dopo rilogga di nuovo nel gioco per trovare nella tua mailbox una fantastica ricommenza. E ora è davvero tutto per questo video. Ciao Slayers! Ciao!